È stata una partita apparentemente facile ma non era così, loro non hanno molato, si hanno messo sotto pressione nelle parti finali del set. Siamo stati noi bravi anche quando eravamo sotto a reagire e portare il set a casa perché era molto importante. Leo Marshall tira un sospiro di sollievo, contro Casarano è stata una battaglia vera. I salentini hanno dato filo da torcere agli impavidi a tratti fallosi e discontinui. Ha prevalso il carattere e l'esperienza ha fatto la differenza. Sul filo di lana tutti i parziali, 25-22 il primo vinto dagli ospiti, 25-21 e un doppio 25-23 quelli portati a casa dagli ortonesi. Il 3-1 regala una vittoria importante e lancia momentaneamente i biancazzurri in testa alla classifica del giro dei blu, proprio alla vigilia della sfida in trasferta contro Aversa, tra le favorite alla promozione come dice Nunzio Lanci. Aversa sicuramente è una squadra importante, dobbiamo avere la pazienza di prepararci a meglio, affrontarla con un atteggiamento importante perché è uno scontro con una delle squadre indicate al salto di categoria. Trasferta anche per il Pineto, dopo aver saltato l'infrasettimanale contro Macerata, per la positività di alcuni giocatori marchigiani, i terramani saranno impegnati a Garlasco.